Asci che c'è il camion Attivata il contratto Quello di un sposo Da 1.30 Oh niente Doveva andare a ammazzare lui da solo Un team intero E' morto Ma io vabbè Io di solito ste cazzate Le faccio all'inizio gioco A metà gioco poi non le faccio più All'inizio gioco penso Mi sono dimenticato che non avevo una cassa Sennò quello lì lo ammazzavo Vai partì E poi dopo Durante la partita L'ha rifatta uguale La stessa osa Però poi gliel'ho detto Guarda già prima siamo morti Vai di via di lì Non sta a pushar da solo Però così Poi il mio Gino Poi faccio perché li vuoi dire Non giova mai Quindi Buone dinamiche Al di là dello sparare Non Non Io ero giocato con degli amici del mio Gino Bello Pure forti Ma uno pushava da solo Corra Corra Bello Sì ciao Sai con chi abbiamo giocato prima Con Cree Che ho giocato No 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 è a casa tua Guarda Ti mando la foto Si è una volta in vita a gioare a Douglas Costa e ti balla Ci hanno Warzone Ma infatti oggi ero con Cree Gli ho detto che era lui Però non abbiamo parlato di quelli che io Manolo leone Ma come mi fai una domanda mi spiega la vostra fallita Come mai Se Cristian che siete dei falliti del cazzo nella vita conoscete tutte queste questioni di successo Non è che siamo dei falliti Ma sto scherzando dai Te l'ho detto attettivo Taulus dai Ma secondo te ti dico tutto il tempo che sei Te l'ho detto scherzando È bello È bello perché È bello perché se te l'avessi detto seriamente Mi avessi detto Mi permette di parlare Ma non era neanche troppo incazzato Ma non era neanche troppo incazzato Ma ormai da caso ti faccio dire Tu Male invece devi rispondere Te rispondo più Ah mi si è bugato la distanza No vabbè Mi schianterò più grande le rotte perché mi si è bugato la distanza Stai a vedere Allora ok E infatti si e invece si è imprescindibile perchè non mi busta 100 metri E arrivo prima di tutti Oddio merda che nervoso che nervoso Guarda abbiamo un problema io te lo dico Abbiamo un problema che secondo me lasciamo perdere sto bunker Guarda tanto ci vogliono andare loro lo faccio ria andare No ci sono andato dietro Appunto lasciamo No ci sono andato dietro Talos no sei scopo Talos stani via Stani c'era gente al treno eh Ho uno qua Il trenino ha fatto qualcuno Si si c'era gente C'è gente Ah scusa Sì è vero Ho visto Ma no Porco di via Chi si è stato? Eh sempre quello lì alle cose E' un'altra cosa Qua 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 Bello quel bison Ma Merda Sì è una merda Perali Questo è Ah ma sono proprio di gusto qui eh C'è gente Non No, no, c'era il mondo Bello che mi hai fatto, non è che la distanza è imprescindibile Che fallo, che fallo Presso io No Una kill per facciamo che si mette in giro No, ma è mazzotta Qui c'è una piastra e qui c'è un'arma Qui c'è una piastra e qui c'è un'arma Ah, c'è chi laggiù che ci puntano Questi qua ci stanno contando Mi hanno preso Vabbè, sono morto No, 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 arriva, arriva, arriva C'è il precision, c'è il precision Dio, guarda, guarda Guarda gli episodi qua Dio, maiale, Dio Vai veloce Che palle Sta avvenendo la macchina a pushare gli occhi Ora sono nella zetta Oh, copritemi un attimo Dov'è che è scesa la macchina? Vabbè Vieni, vieni via, polizia Vieni via, polizia No, io sono già morto Taglia rossa Taglia rossa Fenomeni sono, fatti, fenomeni Sono lì, dì, c'è, no, te non ti hai chiuso la porta Capito Oh, sale Sì, c'è, credo che io sono su AIA! Niente Oh no, madonna, madonna di dio Stai insieme a gestire Stiamo giocando a staffetta, raga Come? Siamo quando staffetta Stiamo un po' a testa Ma dove cazzo è uscito Per la taglia, che inizia ovviamente è diventata rossa Scusa dove cazzo è uscito Per la taglia, che inizia ovviamente è diventata rossa Scusa, no, raga Ma non ho visto, mi nemmeno Se quelli sono vicini, divengono a prendere Ah, guarda, pass Vai, corre Ma perchè non hai il marker tre volte Ma che ne ho fatto? Ma f*** Niente Questo è il cazzo buono, però Strande, guarda E ce l'ho fatta, ma che tribunale Stanno mostrando di questo Stando inizio Stando inizio Stando inizio Stando inizio Stando inizio Mi servirà un mezzo Io lo posso attivare Oppure lo attivi ti, e io in volo ci vado Ah, io la c'è junto, sai? Dani sta a cercare, non c'è con l'EGA No, no, non c'è un grande Ah l'ho attivo io? Vai Ma io ci posso venire lì e poi a load out dopo? Non lo so Quante classi sono? Sono due Perchè la zona di target Sì Daora dov'è? Mezza vele da mezza Ah l'load out non tolgo? Com'è fuori? E io sono più forte Ho capito perché si porta a load out Ho capito ma sono molissimi Ci torniamo rada dai Ok Un po' di piano Dai lo facciamo poi il drop No C'è un po' di piano C'è un po' di piano Tiro sul palazzo eh? Sì sì C'è ma santo che è C'è un po' di piano C'è un po' di piano C'è un po' di piano C'è la Eh, ci serve una secondaria fuori Ah, qui, qui, è spiastrato, è spiastrato, è spiastrato, è spiastrato, è spiastrato È qui, è qui, è qui Dai, dai Mamma mia Dai, tirami su Cosa è accaduto su? Ti serve una metà lì, ecco, forza, per prendere l'oste Io no, c'ho il pompa incendiario, non ho preso il coste Unda, lo scappato, c'è un'opportunità di prendere il coste Non lo dicevi, se lo lasciavo io al pompa incendiario Il pompa incendiario ti ha salvato la vita, ricordi Questo, a parte che gli bastava una botta Tallo, sto per cazzo, vai, ci abbandoni? No, sono qua davanti No, chi è davanti? Ah, è giustamente che ti fermi fuori safe Vieni, sei, eh Tallo, sei un cretino Sei un cretino Sei un cretino Ma che dai a metterlo questo, a faccio? Monta, vieni, sei veramente un idiota Vieni, vieni, vieni Eh, aspetta Eh, aspetta Monta, veloce, veloce, monta No, l'ho mai montato Ma che c'è? Oh no, lo spiega è un'altra cosa Monta, monta Tieni, tieni Non è possibile Scendi, 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 1,4 Stieni su Sempre Tieni Vieni, scendi Chi è l'esatto E stupendo Te, secondo te, non hai sbagliato niente? Tu hai lasciato, hai abbandonato una macchina? Lo vedo, lo vedo, però cosa mi faccio? Tu hai lasciato, hai abbandonato una macchina in contro self mentre c'è l'aria, tu ti sei messo, io non ho, però l'ho detto cosa fa? Non riesco a capire, poi nemmeno un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra. Sperava non mi vediamo, però poi ho capito che faceva passare. Ma te, ma con la macchina ti vedo per forza, come fanno? Eh sì sì, fatti, fatti. Infatti per quello mi faccio una pezzata. E ovviamente il cazzone che c'è andato subito di mezzo è stato io che appena hanno visto lui, alziamola fino un po' più su che c'è Corrado. Ma perché? Allora, gialla, ma... a parte i gialli che cazzo vai via da solo? Punto primo. Beh, che cazzo fai, seriamente? Ma mi stavo aspettando, pensavo in buttazione. Ma non ci stavi aspettando, non ci stavi aspettando, stavi andando... Ah, io non so, è una delle note più senza senso. Poi no, guarda che sei lì, non abbandonare la macchina, no? Non ha l'abbandonare... Mettiti in posizione di... di forza. Guarda, ti vanno a comprire. Guarda, Charly ha detto Guarda, facci jumpati... Credi... Guarda, facci il video. Iscriviti. Guarda, facci il video. Guarda, facci il video. Losing ground Uca, dura, dura, dura. Andiamo a far questa lince. E c'è una lince lì alla banca. Gli presa lì. Sì! Gli presi! Questo, ragazza! c'è un'arma semidescente qui ci sono due loadout raga siamo fottuti ma dove non ho presi nessuno ma non puoi prenderlo da altre persone no no lo so c'era un'arma in terra e non me la pigliava raga raga c'è gente di fronte mi sa a fianco a noi occhio hai corretto dove dove ma porca puttana sono anche dietro eh qui c'è la metro raga dai via qui c'è la metro e si va arrivo 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 io ora adesso uno e quello per le zo bad subita alla cassa di poi per resta anche ed Vai alla cassa, vai alla cassa veloce così resto Corrado Andiamo qua e dobbiamo comprare un drop Ah merda, si stanno spompandola Corri a shipping gente se la vedi Oh, c'è gente qua davanti, cadu Ok, ok Aspetta, cerco di spottarteli Ah, eccolo, deve essere tipo qua Lo accende Eh, dove lo facciamo? Non lo vedo Eccolo Terra Grazie Prendete il drop, veloce Ti lascio i soldi Copritemi Tieni, corre Ora, mi dobbiamo evitare i soldi Tiè Punto mi hanno sparato a me lì, eh Ti va alla piastra Tieni, tieni, corre Ora, per favore, prendete il fantasma e il ferito massimo Io vi lascio una mitraglietta Ho il pompa, ti lascio il pompa insegnare Corri a uscite un centro Gente qua Ecco le lì, non sparate, non sparate Io non posso sparare così lontano Quello mi serve, ragazzi Ok, abbiamo gente vicinissima Macchina Dua tarra, dua tarra, dua tarra Anlarmi Allora, quest'anno Ci abbiamo gente davanti a noi, eh Siamo messi di merda C'è un attimo il loadout No, vieni con me, vieni con me, vieni con me Vieni con me prendi il Schif-7, prendi il Schif-9, prendi il Schif-9 solid work oh la destra si è finita la destra si è finita c'è chi in a roma ho capito che cosa posso fare c'è 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 chi prendermi la roba uno è dato a terra lì eh raga si ho fatto io guardati le spalle guardati le spalle uno qui una qui brava dobbiamo fare attenzione da destra schiena guarda di là venite con me venite con me venite con me qui 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 ed glitch e copertia ed glitch e copertia troppi team troppi team stiamo qui per ora facciamoci vedere guardiamoci dietro guardiamoci dietro dai sopra occhio scecchini dentro sopra stadio dopo stadio non ci può essere nessuno vedrai eh il gas puro qui c'è gente dietro da tenda ma come fanno se c4 team qui eeeh fanno capire se stiamo qui stiamo giù dall'altra parte gado no c'è gente va voglio evitare di beccarli vieni con me aspetta vieni con me vieni con me c'è troppa gente dall'altra parte voglio stare qui nell'ombra striscia striscia ora striscia tutti questi team voglio che si prendano sono tutti in quelle tende del cazzo capito? statene proprio qui eh fatti i cazzi tuoi fino all'ultimo per favore si si non sparate non sparate fino a che non ci sono rimasti solo 3 siamo in safe vieni in safe non torsire uh 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 raga apritevi bene apritevi bene eh apritevi bene che senza apriamoci eccoli 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 fire over here and the precision airstrike get down oh terra franca sono lì si 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 Sì, coda, sì. Questa è la partita più difficile. No, mi ha spinto. Ci voleva un po' di serietà. Madonna come eravamo messi male prima. E' un male che l'ha detto così. E' un male che l'ha detto così. Bella storia. Quante kill? Io ne ho fatto 4. 4 e 4 noi. Con 2116 di danno.